Oggi si è tenuta un importante appuntamento. Oggi, come guide del Borsacchio, siamo stati auditi in Commissione Ambiente per discutere del famoso taglio, o meglio, cancellazione di fatto della riserva Borsacchio. È stata una giornata costruttiva. Abbiamo ricordato il perché eravamo lì, perché c'è stato quel famoso emendamento la notte del 29 dicembre che andava di fatto a cancellare la riserva Borsacchio e di come, dopo una forte ondata popolare, 32 mila firme, 300 associazioni e dopo numerosi esposti in Ministero, il Ministero dell'Ambiente ha inviato una secca nota dove ricordava che la tutela dell'ambiente nella Costituzione e che lo Stato italiano si è impegnato ad aumentare le superfici protette e che la tutela dell'ambiente è una competenza dello Stato e che una regione in autonomia può procedere solo in meglio e non in peius. Abbiamo ricordato come una riserva non si istituisce con i pareri leciti, opinabili di tutti i nostri o come di altri. Una riserva si istituisce, si modifica o si cancella attraverso dei documenti ufficiali e all'oggi esistono quattro importanti documenti, tutti ufficiali, tutti depositati da uno studio dell'Università di Termo, la sapienza che ha istituito la riserva agli studi del PAN di Nigro con importanti ricercatori e scienziati, agli studi fatti col PAN di Gregorius del 2016, oltre a quelli dell'Università dell'Aquila recentissime del gruppo di ricercatori, così come le tesi e le ricerche fatte dai ragazzi, dagli studenti, dai docenti e dai ricercatori dell'Università di Termo. Quindi quando bisogna valutare se un'area ha un pregio o no, non lo si fa con un'opinione nostra o con l'opinione di un altro, lo si fa con un documento scientifico e all'oggi tutti i documenti portano l'importanza di centinaia di specie di flore e fauna presenti sui terrenali e su una dozzina di aree da iscrivere e tutelare per legge di Stato italiana ed europea. Quindi per cambiare questi confini bisognerebbe rifare uno studio lungo anni, monitoraggi lunghi anni, e questi studi dovrebbero sparire tutti, tutte le specie, tutte le formazioni geologiche, tutti i caratteri storici, censiti, pubblicati, dovrebbe scomparire tutto. In questi anni, in questo decennio almeno di attesa per un documento che ovviamente porterà sempre delle specie da tutelare per obbligo di legge, tutto rimarrebbe bloccato in tutti e mille cento ettari. Il Ministero è stato chiaro e noi siamo aperti al confronto. Bisogna risolverlo all'interno degli strumenti di pianificazione, così come è stato fatto per uno dei temi scottanti, l'ampliamento dei casolari storici, circa 12. Il PAN offriva un 15% di aumento per fini turistici, i possessori chiedevano un 50% di aumento. Nello strumento di pianificazione si è trovato un incontro al 30%. Nessuno è stato pienamente soddisfatto, ma tutti insieme con questa metodologia possono andare avanti per far finalmente partire e provvedire un'aria. Questo è quello che abbiamo consigliato alla Regione Abruzzo e questo è quello che indica il Ministero da fare. Quindi siamo aperti, è stata una giornata di piacevole e importante confronto a cui diamo merito anche alla Regione Abruzzo, ma adesso è importante continuare e non perdere altro tempo, lavorare insieme per migliorare gli strumenti di pianificazione. E chiudo dicendo che questo è un compito che spetta alla Regione Abruzzo. L'approvazione del PAN non spetta al Comune, spetta alla Regione Abruzzo.